bentornati raga e benvenuto per chi è nuovo nel canale oggi glitch bomba per mv2 ragazzi xp infiniti e potremmo essere anche in god mod ma non lo diciamo nessuno quindi ragazzi iniziamo con il glitch dobbiamo andare ad avviare questa missione ragazzi categoria cooperativa profilo basso andremo a mettere quello che volete medico assalto eccetera dipende voi come volete livellare e cosa vogliamo livellare quindi a questo punto avviamo ragazzi vi ricordo che è in solo faremo un po i stronzi perché così dobbiamo definirci per farlo in solo ma potremmo farlo in solo in questa maniera a meno che non ci facciamo aiutare da un nostro amico ragazzi e vi spiego come ci dovrà aiutare quindi se lo facciamo in solo andiamo avanti avviamo l'attività se invece lo facciamo con un nostro amico invitiamo il nostro amico e avviamo l'attività insieme a lui niente di più semplice ragazzi io lo farò in solo per farvi vedere quindi iniziamo una volta che partirà la partita ragazzi dovremmo riavviare finché il tizio a fianco a noi ragazzi non si rompe le palle e ci mandi a rubare in tutte le lingue del mondo e quitti quindi io dopo sette otto riavvi non so precisamente quanti ne ho fatti adesso voi lo vedrete velocizzato perché sennò vi farei una capattanta a farvi vedere tutte le volte che ho riavviato che non ha senso alla fine il socio che è entrato random ha quittato la partita e sono rimasto da solo ragazzi a questo punto dobbiamo decidere l'arma che vogliamo livellare ragazzi che potranno essere solo queste quelle che abbiamo in mano quindi decidiamo cosa livellare e livelliamo queste armi una alla volta ragazzi la cosa positiva che facendo questo glitch faremo anche xp per salire di livello quindi ragazzi una volta scelta l'arma dobbiamo semplicemente andare qua da portellone e cliccare il tasto da voi assegnato secondo dalla piattaforma la cui giocate ragazzi e avviare l'attività attenzione a questo punto una volta che ci lanciamo dall'elicotterone dall'aereo gigantesco non mi ricordo come si chiama non lo so sinceramente ragazzi apriamo il paracadute e ci dobbiamo allontanare finché non schiattiamo quindi dobbiamo morire ragazzi in aria uscendo fuori zona a questo punto una volta che siamo schiattati non ci resterà altro che fare riavvia ragazzi senza nessun problema e saremo da soli e potremo iniziare a fare il glitch per i cazzi nostri in fk perché questo glitch ci permetterà di sì di fare xp mentre scassiamo tutti ma poi ci metteremo fk ragazzi e lì faremo il botto di roba quindi andiamo a fare la missione iniziale normalmente ci aspettiamo che ci fa mangiare le pastiglie poi clicchiamo il tasto da noi assegnati e ci lanciamo dall'aereo una volta che siamo in aria ragazzi ascoltatemi bene guardatemi bene ora vi farò vedere il modo sbagliato in modo tale che capite cosa dovete fare non fate caso a me che ho tirato fuori il drone perché ho smarmellato quindi iniziamo vi faccio vedere prima la parte sbagliata e poi la parte corretta così potete capire come si fa bene il glitch quindi prendiamo di mira c ragazzi e dobbiamo andare ad atterrare nel giardinetto sotto il tetto diciamo in quello un po' più piccolo dove c'è la porta che vi faccio vedere adesso in questo momento vi ricordo questo è il metodo sbagliato per farvi capire dovremo andare qua vedete che c'è il cavo tira il premuto per usarle queste qua ragazzi e noi dobbiamo stare a spammare il tasto assegnato a seconda da che piattaforma giochiamo io adesso l'ho fatto male per quale motivo? perché ho schiacciato velocemente il tasto quindi a seconda di che impostazione voi avete dovete capire come schiacciare quel tasto allora la maniera corretta ragazzi sarebbe questa se voi tenete premuto in questo caso io ho X perché gioco da Xbox ma chi gioca da Play avrà quadrato chi gioca da PC avrà F ragazzi cosa dovrà fare? dovrà tenere premuto quel tasto in modo tale che il cerchietto attorno si riempa e che inizia a fare l'azione che deve fare appena il cerchietto attorno in questo caso il tasto X che voi vedrete vi faccio rivedere è pieno dovete mollarlo e dovete rischiacciarlo e farlo riempire di nuovo dovete continuare a fare questa cosa ragazzi a una certa vedrete che vi sdoppierete e il vostro avatar rimarrà accucciato davanti alla porta adesso vi faccio vedere la maniera corretta ragazzi quindi aspetto di lanciarmi dall'aereo una volta che sono in aria prendo di mira C ragazzi per atterrare nella porta che vi ho fatto vedere prima una volta che sono davanti alla porta punto per terra dove c'è questo cavo ragazzi faccio riempire X guardate bene e quando è pieno lascio il tasto e poi rischiaccio il tasto e faccio riempire X facendo ciò come avete visto mi sono sdoppiato ragazzi e c'è il mio avatar accucciato là in questa maniera saremo buggati e saremo in god mode ragazzi non ci potranno far danno prenderemo colpi come la pentolaccia e non succederà niente quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? oltre a ucciderli tutti e fare come dicevo XP sulle uccisioni, sui corpi a corpi e potremo anche livellare l'arma che stiamo usando ragazzi dovremo andare a recuperare ragazzi l'obiettivo di C e poi l'obiettivo di B ragazzi fondamentale seguite questo ordine quindi andiamo a uccidere tutti quelli che stanno qua da C e una volta che l'abbiamo scassati tutti tanto saremo in god mode vedete sto prendendo colpi come una pentolaccia sto juggernaut non schiatta ragazzi ma io non muoio quindi sono tranquillo e faccio XP anche sparando col cecchino livello anche il cecchino quindi una volta che l'abbiamo uccisi tutti abbiamo preso l'obiettivo di C ragazzi non ci resterà altro che andare effettivamente da B scassare a tutti quanti ragazzi e una volta che ci siamo divertiti a scassarli tutti quanti prenderemo anche l'obiettivo di B a questo punto belli ragazzi inizia il glitch FK possiamo andare a dilagnare tutti quanti quelli che stanno su A ma non dobbiamo prendere l'obiettivo quindi ragazzi vi divertite a ucciderli tutti tanto siete in god mode e una volta che avete ucciso tutti mi raccomando attaccate il pad alla console via cavo se no crashate e state FK il più possibile ragazzi io vi consiglio di farlo per un'oretta un'oretta e mezza e vedrete che salite come i pazzi di livello io l'ho fatto giusto un quarto d'ora ragazzi per farvi vedere perché tanto non aveva senso fare un'ora e mezza di clip che sono già di livello alto ragazzi io lo faccio solo per maxare le armi quelle che mi mancano di questa modalità a questo punto mi metto qua ragazzi e non faccio niente ora vi velocizzo la clip se volete la guardate ma non ve ne frega niente quindi schippate direttamente ragazzi al minuto 10 e noi ci vediamo che ci vediamo con la mia netta Grazie a tutti. Grazie a tutti. A questo punto ragazzi, dopo che è passata mezz'ora, un'ora e mezza, quanto avete voluto aspettare, andate a prendere l'obiettivo ragazzi e andate al punto di estrazione. A questo punto ragazzi, una volta al punto di estrazione, avete completato il tutto. Andiamo a vedere quanto ci ha pagato, io sono stato all'interno circa una quindicina di minuti, fermo lì in quella situazione ragazzi, non di più. Quindi con tutta l'ammissione eccetera eccetera, penso che una trentina di minuti l'ho persi. Quindi andiamo a vedere cosa ci ha dato, 31 minuti, ho preso una stella ragazzi, ma noi non ce ne frega niente, vogliamo vedere se effettivamente abbiamo livellato le cose. Quindi mi ha fatto salire ragazzi, come vedete, di livello esperienza. Se voi siete bassi salite veramente tanto, perché ovviamente più si sale e meno si sale. E ho anche livellato le armi che ho usato ragazzi, come ben vedete. Guardate che bomba! Quindi a questo punto raga, una volta livellata l'arma e livellati i vostri, lo rifate quante cazzo di volte volete. Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, che se è d'aiuto mettete like, mettete mi piace, mettete quello che cavolo volete ragazzi. Aiutatemi a far crescere questo canale e alla prossima. Bella raga! Sbada bam! Ciao!